Musica Se la trovi della free mi devi un favore No Ah va bene dai ci sto Che non cazzo vuoi Io faccio la maratona di dottor stone Boh scorpio guarda Se la trovi a 570 fa anche l'ultima Va bene Per forza se ne veda pazzi non parla Anche se su merdine non me ne fecava un cazzo Oddio i capelli di sbarbo ragazzi Oddio i sbarbo Oddio i sbarbo Tutto serba ora Tutto serba Tutto serba Quale un po' con Eminence magari Ti avevano detto alla prima sta merda Oddio Peppe Tra l'altro Ti auguro di trovare alla prima sta merda Ma ha votato no Un fanapiega direi No ma come Poli non pulli Che clown Ha votato no perché è realista Boh Io voto sul no Ragazzi qualcuno voti anche il sì se no E se votate tutto no Ma poi cosa vuol di 170.000 sul no ragazzi Ma che cazzo fate Ma che cazzo fate Per oggi ho preso la skin di Halloween Io la shoppo oggi credo Domani domani Che oggi non posso Dovendo a farmi capire Visto che ha scambio il M&Ram Non ha scambio Semplicemente è posticipato A post look ragazzi Post look facciamo tutto Andiamo Prima di andare avanti con il video Però volevo ricordarvi Assolutamente Di seguirmi su tutti gli altri social Trovate tutti i link In descrizione Dalla mia pagina Instagram Alla mia pagina Twitter E anche ovviamente Girate su M&R Discord Seguitemi su Twitch Tutto in descrizione ragazzuali Mi raccomando È importantissimo Perché soprattutto Twitch Instagram E Twitter Sono i main social Che utilizzo sempre Tutti i giorni E tra l'altro Mi raccomando Tutto in descrizione Seguitemi Ora Ed eccola qua La multishaft Seconda Seconda Ma come non Te li sei già fatti Con quel nuovo taglio Che battutona Delsin Non senti che rido Fino a qui Ha vinto il no Coddio Vai Tia Ti scelgo i pronostici Dai A 570 Devi trovarla Ti giuro Ma se la trovo Meno Di 400 Vado A urlare In chiesa Tipo così Kato Mi sto Scherzando E Ovviamente Sto a fare Trigonometria Anche se Sto male Botti Ha un cavaliere sacro Sei tipo Vediamo la Irla In chiesa Palesio Non la trovavi La trovo A 600 Ma ragazzi Mi va benissimo A me L'importante È non spendere Una lira Va benissimo Va benissimo Mi va benissimo Se la trovo A 600 Entro l'uno di prossimo Ho altre 600 gemme Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Me lo frega a me Ma Che guinzate Che mi fighi Marcos Non aver continuato Suela Penso sia stata La scelta migliore Ogni tutto 2023 Per averti convinto Grazie Leggimi Importantissimo Bo Maravèo Bavavau Scoppia Vabbè No Apollo Assolutamente No Top messaggio Fondamentale Addirittura Seconda Lei è un sin Vai Ma poi è l'unico sin Nel banner No C'è meglio Adesso No No This is a big problem Si Si E' vero C'è anche No Ma Lei è l'etapa Dai Lei è l'etapa Dai Già C'ha anche C'è anche Goten Si Ci sono Lei Col Cazzo Ci sono Lei Ma che Multimed In alto E centrali In alto Lei Bellissimo Si si Un sin Si 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 Vabbè E' uno Dei Quattro Abbiamo più chance Che non sia Lei Sendo che Tre contro Uno C'è Il fork Windy Sendo che Che Multimed Davvero posso Dirlo Che Multimed E adesso Basta Che fa un tv Pazzo Tocco per Massi E siamo Sopra Le mille Gemme Tocco per